Gentili telespettatori, buona giornata. Sul Catargate interviene anche Luca Ricolfi, che è una persona, un intellettuale di estrema intelligenza, quello che dice è sempre molto molto interessante. Secondo lui, con il Catargate anche la Meloni ne risentirà. Perché? Ecco, non è solo un problema della sinistra, ma anche del governo Meloni. Ne è convinto Luca Ricolfi, politologo, sociologo. La società italiana, già poco incline alla partecipazione, è stata anestetizzata da un quindicennio di non politica. Dal 2006 ad oggi si sono succeduti una decina di governi, nessuno dei quali è stato capace di portare a termine un programma sulla base di un mandato popolare. Quindi non hanno portato a termine un programma su un mandato popolare, ma non hanno portato a termine neanche un programma su un mandato non popolare. Cioè non ci sono stati i programmi. Il nulla assoluto. La sinistra per dieci anni è stata al governo più o meno sempre e non ha mai avuto un programma, ma di solito i programmi erano quelli del Presidente del Consiglio. Quando la sinistra diceva, io ho il programma, l'agenda Monti, poi l'agenda Drage, ma cos'è sta agenda? Ma dov'è sta agenda? Non esiste sta agenda. Non hanno neanche a sinistra neanche la voglia di pensare a un minimo programma. Prendono in prestito fantomatici i programmi altrui. E dicono, dice poi Ricolfi, ci hanno dimostrato che la politica non è nelle nostre mani, è logico che la guardiamo con scetticismo e disamore. Infatti alle ultime elezioni c'è sempre una partecipazione sempre inferiore. Prima ancora del paese, credo che sarà il governo Meloni a risentirne del Qatargate, perché a livello europeo non si parla della corruzione dei socialisti, ma del cosiddetto Italian Job. Ecco, forse anche per questo il centrodestra non cavalca lo scandalo, perché lo scandalo che può essere cavalcato contro la sinistra in Italia, in Europa è uno scandalo italiano, non è distinzione tra sinistra e destra, quindi non fanno distinzione che pansieri del PD o dell'altro, per loro è un politico italiano che fa riferimento al governo che c'è oggi. Quindi i cari sinistri, con queste ruberie in Europa, questa corruzione e i sacchi di soldi, stanno discreditando il governo italiano attuale, oltre che il paese. Per quanto riguarda il caso Soumaoro, altro caso proprio coi fiocchi, dice, visto con l'occhio del sociologo non è certo sorprendente, le organizzazioni benefiche sono innanzitutto burocrazie, il cui primo interesse è sopravvivere e possibilmente ingrandirsi rastrellando soldi. A questo scopo hanno bisogno di procurarsi dei testimonial, ma nessuno controlla mai che cosa fanno esattamente le industrie della bontà, perché sono tanto buoni. La questione morale, dice sempre Ricolfi, il clima di mani pulite me lo ricordo, c'era indignazione, però il vero carburante della protesta era la speranza di cambiare, oggi c'è indignazione, ma la speranza di un vero cambiamento si è estinta, come il caro estinto. Sono sempre interessanti le riflessioni di Luca Ricolfi, ne abbiamo parlato già in un altro video, che visto che in Europa la scandalo della sinistra italiana diventa Italian Job, va per forza contro il governo Meloni, che sta cercando di accreditarsi in Europa come un governo, Purtroppo, come dice la Meloni, siamo figli di un Dio minore, pertanto per fare delle cose normali dobbiamo dimostrare di essere dei super politici, solo per fare e dimostrare di essere accreditati con il minimo. Intanto io vi racconto di un'altra notizia, quella di Fratoianni che fa eleggere la moglie, che ve l'ho già detto un'altra volta, ecco, parliamo ancora di quel giornale, La Repubblica, dove il delirio è totale, visto che la Meloni parla del piano Mattei per l'Africa, la Repubblica dice, ma Mattei era fascista? Mattei era fascista? Ecco, insomma, se Giorgia Meloni promette la formula Mattei per l'Africa, la Repubblica non sta a guardare, dice, ma scusate, ma quello era uno del ventennio, vabbè, ma negli anni 50 e 60 erano tutti del ventennio, tutti erano nati sotto la dittatura, e tutti, tranne rarissimi casi, erano con il regime, perché se non eri con il regime, venivi mandato al confino, dalla polizia politica, e dalle delazioni dei vicini, ecco, pertanto durante il ventennio erano tutti dalla stessa parte politica, volenti o nolenti erano tutti, quindi se Mattei, che negli anni 50 e 60 fa delle cose eccezionali, ah, ma quello era uno del ventennio, e per forza, durante quegli anni erano tutti dalla stessa parte, quasi tutti, ma quelli che non lo erano, erano in prigione, o erano confinati nel posto più sperduto, in barbaggia, no, in barbaggia no, in barbaggia, in barbaggia. Così, il quotidiano di Maurizio Molinari, pur di attaccare il governo, se ne inventa di tutti i colori. Anche Enrico Mattei era un nostalgico imperialista, proprio così, l'imprenditore partigiano e deputato della democrazia cristiana sarebbe stato un estremista di destra. Il capo della CIA Roma non sembra avere dubbi. Così scrive il libro quotidiano che Maurizio Molinari sarebbe il capo della CIA Roma, non avrebbe dubbi. Enrico Mattei era uno di quelli. Si era rifatto l'immagine comprando per 5 milioni di lire il titolo di partigiano dai democristiani e forse per queste sue origini si oppone agli interessi americani in Italia. Scrive Mostrolilli in una paginata di robe contro il povero Mattei e il governo Meloni. Il rapporto segreto del 1955 su Mattei diceva che la grande maggioranza delle compagnie petrolifere italiane che fino al IV World Petroleum Congress si opponevano a Leni ora presentano un fronte unito con Enrico Mattei nella sua opposizione allo sfruttamento dei depositi italiani da parte degli interessi americani. Ancora questa nuova situazione è il risultato di informazioni confidenziali e consigli forniti ai gruppi petroliferi italiani a Mattei stesso da Remigio Danilo Grillo. Grillo, vice-derittore generale degli affari politici al Ministero degli Esteri italiano è un ex squadrista e cagnolino di Galeazzo Ciano grazie a cui alla cui influenza ha fatto carriera. Insomma poi la storia va avanti ancora un po' non ve la sto a raccontare tutta però insomma andare a tirar fuori delle storie così che pena certi certi quotidiani che fanno ma non hanno niente di meglio da raccontare delle notizie vere o non so una critica costruttiva ma una critica politica la Meloni parla del piano Mattei ah ma Mattei era uno ma va là va là su che pena e che vergogna eh che pena e che vergogna grazie a tutti e arrivederci a presto grazie a tutti grazie a tutti